Due team Buttai una bomba Locked in qua sotto l'ho quasi ucciso Merda basta Che cazzo ho fatto? Occhio occhio No ho fatto un numero qui Tutte le due carne Tutte le due carne Matteo E l'altra si 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 vai 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 attacca attacca 101? Batteria 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 Eh merda però se ti curi Non possiamo attaccare Oh ma attacci Eh però te lo fai te lo fai Altro team altro team Non te lo sei fatto